bella a tutti ragazzi da SampoDot3 eccoci qua su Pepper del spiky team del team spiky ragazzi sono una casa di sviluppo inglese ragazzi benvenuti nuovo a vedere il mio canale qua siamo su steam siamo su pc ragazzi questo gioco è uscito il 14 maggio cioè ieri quindi questi sono i miei comandi il vast solito poi con la p e il pepper l lift e con lo spazio si salta ok quindi vabbè pause menu facciamo new game ragazzi io ho giocato tipo 30 secondi volevo giusto vedere come era fatto se tutto era corretto tutto funzionava assolutamente è un 2d ragazzi fatto diverso in particolare un bell'indie ragazzi quindi ragazzi iniziamo subito con new game facciamo peanuts start bye bye continue let me the vet girl wait a note dear peanut please go to peru bla 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 ok 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 continua ok facciamo next ah ok siamo a tempo ragazzi ma vanno anche le frecce ma allora io uso le frecce che mi trovo meglio ok questi qua allora praticamente ho provato bisogna ok saltagli sopra se no si spara con la p è che mi pare che io sono andato avanti tipo fino oltre questo ecco ma non c'è un checkpoint ecco io sono arrivato qui ragazzi quando l'ho provato quindi veramente 30 secondi mamma mia che paura che mi ha fatto però non aiuto eh si salta un po' la cieca eh ok 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 mamma mia ah qua gli posso sparare con la p eh che cavolo vabbè questo gli salto sopra e questo gli sparo vedete ok ragazzi attenzione con calma eh ok uh questo non mi piace a me questo non mi piace cosa sono quella roba lì sotto saranno dei grazi che possono partire mamma mia eh che cacchio ho perso due cuori un cuore lo posso prendere? sì e vai mi prendo tutte le monete io ragazzi eh quella roba là non mi fido io ok e ora come faccio ad andarli sopra? devo tornare indietro? probabil mamma mia oh no ah ma non fa niente sta roba qua mamma mia ragazzi che paura ma che cavolo e queste non fanno niente queste allora ma che cavolo eh dovete stare un po' attenti perché sembra che è un tipo nel ghiaccio oh che cavolo uh ragazzi mi sta venendo ok adesso devo andare tipo là quando io sono in alto lui va in basso e io salto stessa cosa di qua adesso lui va in alto urcaccio non funziona così no ho sbagliato calma adesso uh ragazzi e siamo anche a tempo è vero dobbiamo anche sbrigarci ecco mannaggia ok vabbè io adesso sa e mo dove vado lì e vabbè io seguo le monete uh brutto eh e mo come faccio no 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 ah ma arriva fino qua sotto questo buon benissimo ciò che ragazzi sta finendo il tempo porcaccio eh il cuore me lo piglio che è importante ragazzi voglio avere tre cuori qua vabbè aspetto di andare su andiamo oh mannaggia tiè no non ha sparato eh qua bisogna stare attenti a sto a questo tizio eccolo qua via qua tiè oh eccolo un altro mannaggia perché scappa la motone indietro questo buh è boh meglio vabbè vattene via oh che cavolo che paura mamma mia oh è che non hanno un criterio come si muovono si muovono quando vogliono mannaggia a te eccolo un altro tiè molto fregato sì ma dobbiamo sbrigarci ragazzi perché ah sono arrivato ho finito wow oh la oh ragazzi benissimo 200 e quindi bisogna andare un po' spediti perché il tempo ragazzi è quello che è comunque facciamoci anche il prossimo livello ok qua c'è una cascata ma penso che è solo di bellezza maledetto ok perfetto eh mo come faccio questo vediamo un po' ok l'ho preso l'ho preso l'ho preso l'ho preso e adesso devo andare di qua dal tipo e sapevo io e il tipo è anche arrabbiato mi sono incastrato mi sono glicciato tiè ah il fungo fa saltare in alto boing ok ho capito ho capito si vabbè però e non fa aspettate ecco la L che salto era e io aspetto allora ragazzi ancora il prossimo facciamo ancora il prossimo come si chiama lì il prossimo salto io quando ci sto capendo niente dai eh oh ma ok ok vai 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 uuuu vabbè io seguo le monete quindi non posso sbagliare basta seguire la scia delle monete però ho perso un sacco di tempo ragazzi adesso devo recuperare la bombazza eh ok ok ci sono io spero che non ci siano altri mostri nuovi maledetto tu stai fermo ti sposti ok tu stai fermo ti sposti non ho mica capito io ok qua c'è un altro fungo aiuto ok ancora un salto con la L no ancora uno ancora uno ma ma io non riesco a capire con che criterio spara sto solo perdendo tempo jump forse devo devo andare a tempo no se tengo premuto non fa niente se premo la L di lift buh ma forse devo andare in su ah comunque ho perso un cuore ragazzi non state a dirmi dove e che cavolo però eh come faccio ad andare di là non spara più in alto ma ok questo era un buon salto ok no 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 ok ho capito dovevo andare via dritto allora io continuo a andare di qua mamma mia oh ok avete capito non dovete rimbalzare ma prendere praticamente eh io seguo le monete mannaggia questi ok no no ahhh ah ma c'era uno sotto qua no restare level no eh ok vabbè facciamocelo eh vabbè però eh che caspita ragazzi ho fatto già schifo da adesso vieni 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 qua che ti faccio vedere io ti facci vedere io tanto adesso so tutti i trucchi tac mamma mia che mi ha spaccato il timpano questa vieni 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 che ti faccio vedere così non perdo neanche tempo eh vedete però ok 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 perfetto adesso arrivo nel pezzo dove ci ho messo mezz'ora ragazzi uh c'è un cuore ma chi se ne frega il cuore tanto mamma mia ok state fermo ok perfetto eccoci arrivate ragazzi il momento di prima vabbè vabbè loro l'ho fatto abbastanza ok ok ragazzi sto passato l'ho passato l'ho passato prendo il cuore scendo ok ci sono due tipi spero che non si muovano ok devo scendere lì ok mamma mia o mondo vado devo andare lì sperando che non ci sia un altro mostro ok lì ma è fermo potevo fare il combo ma non lo voglio fare io ragazzi e che sono un tipo abbastanza tranquillo mamma mia ok qua ci sono un sacco di monete e mo devo andare fino la tech dac ragazzi che finiamo il secondo livello non dovrebbe mancare tanto non so quanto ok non so quanto quanto dovrebbe mancare ragazzi abbiamo finito mamma mia ragazzi l'abbiamo finito wow bene ragazzi diciamo che finiamo qua perché era giusto così per vedere come è fatto è molto carino non ve lo voglio far vedere tutto altrimenti vi spoiler troppe cose e vabbè magari ci farò ancora un paio di video ma finisce lì ragazzi come sempre quindi se questo video vi è piaciuto mi invito a mettere mi piace ragazzi iscrivetevi al canale che ci sono fatto e noi come sempre ragazzi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti